Continua la collaborazione fra il Parco Regionale Naturale Litorale di Ugento e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell'Umbria, le Università di Perugia e Salento e l'Istituto Superiore per la Protezione alla Ricerca Ambientale che si sono incontrate ad Ugento per un confronto scientifico per lo studio delle popolazioni aliene di pesce rosso e del granchio blu nei bacini di Ugento e della loro capacità di diffondersi e occupare nicchie ecologiche riservate alle specie locali. specie cosiddette aliene rappresentate proprio dal granchio blu, il Calinectus sapidus e il Carassio dorato, il Carassio auratus. Queste due specie sono dei nuovi inquilini del territorio all'interno del quale competono su nicchie ecologiche di specie autoctone. Per questo motivo l'amministrazione comunale già da un paio d'anni ha avviato una collaborazione al fine di individuare, monitorare e studiare quelle che sono le quantità di specie nuove presenti e l'influenza o gli effetti che hanno queste specie sulle specie che invece abitano abitualmente i bacini di Ugento. Il parco è un attrattore turistico, ambientale e istituzionale. È un aspetto importante quello di valorizzare l'istituzione parco in quanto oltre a rappresentare un marchio, oltre a rappresentare un plus che l'amministrazione, il territorio mette a disposizione di chiunque dall'altro, il parco costituisce uno scrigno di biodiversità che è oggetto di numerose approvazioni anche istituzionali, anche internazionali.